La cronaca degli ultimi giorni riporta frequenti episodi di comportamenti violenti verso i sanitari impegnati nella cura dei pazienti che talvolta sfociano in delitti cruenti come quello capitato a Pisa dove è stata uccisa una psicologa. Ad Odersi invece è stata ferita un'avvocatessa durante un colloquio con un cliente. Non si deve parlare di aggressione all'interno dei contesti sanitari solo quando avviene il fattaccio. Il problema dell'aggressività dei pazienti, degli utenti, delle persone che stanno male sono molto frequenti e da anni che si conoscono. Le strutture, i datori di lavoro dovrebbero pensare a come prevenire queste cose e a come dotare ogni sanitario e ogni gruppo di lavoro, non solo il singolo, degli strumenti adatti a prevenire e a far fronte quando questi venimenti non si riescono a prevenire. In campo medico i servizi particolarmente a rischio, oltre a quelli tradizionali di primo soccorso, sono anche quelli nelle comunità assistenziali e nei centri di salute mentale. Fare prevenzione, cioè lo psicologo lavora sulla prevenzione, quindi è importante che tutte le figure sanitarie siano portate a conoscere quali possono essere le strategie per far fronte a quando questi venimenti avvengono, ma anche far fronte a come prevenire, cosa osservare e come dedicare dei tempo a delle persone che stanno provando sofferenza e quindi come tale l'aggressività, che fa parte dell'esperienza umana di chiunque e c'è, però quando uno sta male non sa orientarle in maniera accettabile, possono far fronte a questi elementi per evitarli. Ecco, c'è un'aggressività sempre maggiore nei confronti di personale che svolge funzioni di aiuto alla persona, come mai? Un po' perché è cambiato il rapporto con la figura del medico, del sanitario, che una volta era visto con riverenza, cioè il medico ha studiato, è uno che conosce, adesso ognuno di noi, tutta la popolazione, crede di saperne un po' di più degli altri e quindi con questo quando non ricevono la soluzione, la risposta che vorrebbero, alzano il tono e vorrebbero magari essere ascoltati anche in maniera violenta. Quindi un po' si crede meno nelle competenze del sanitario, delle competenze di chi ha studiato e un po' anche nella scienza e questo è un po' colpa di tutto il sistema sociale, quindi deve essere un lavoro che viene fatto a vari livelli per riportare la scienza, la professionalità al centro e nella fiducia delle persone. Ecco, ci sono dei campanelli d'allarme che non vanno trascurati? Ogni contesto a sé, comunque il primo campanello d'allarme è vedere qualcosa che sta cambiando, la fisiologia della persona che sta diventando più affannata, più rossa, più agitata, quindi questa è molto general generica. Poi nei contesti sanitari e sociali in cui si lavora costantemente con le persone che possono diventare anche violente, l'importante è la conoscenza che si ha di questa persona.